domani 12 16 buona il colore verbra stai stai simone stai ho letto male io ho letto male io scusate bella fragola lei comunque con un 14 15 ha detto mani congratulazioni signori iniziamo benissimo tutti i vincitori bravo simon bravo ottimo ottimo molto caldo gabriele gabriele grazie gentilissimo perché con me servano i commenti di facebook che ben natale